L'allarme della procura di Agrigento sulla possibilità che tra i migranti fantasma, cioè coloro i quali attraversano il Mediterraneo con piccole imbarcazioni per sfuggire all'identificazione e raggiungere le coste agrigentine, ci possano essere anche terroristi, era stato lanciato dallo stesso procuratore della Repubblica Luigi Patronaggio. Il capo della procura, in un'intervista a Repubblica di pochi giorni fa, non nascondeva la propria preoccupazione per tale eventualità. Lucido il ragionamento di Patronaggio, laddove spiegava per bene che i migranti fantasma che arrivano a bordo di piccole imbarcazioni, certamente non per necessità, correvano pochi rischi ed il loro viaggio poteva dirsi sicuro. Ipotesi che non ha trovato tutti d'accordo, a cominciare dal Presidente del Senato Pietro Grasso, che aveva dichiarato di non poter creare un fenomeno sulla base di ipotesi, ma che adesso potrebbe trovare conferma dal ritrovamento nella zona di Torresalsa, nel mare tra Siculiana e Real Monte, in provincia di Agrigento, dove tra le dune è stata rinvenuta una felpa con la scritta «Coloro che odiano Parigi» e nel mezzo una tour Eiffel capovolta. Lo sbarco fantasma, l'ultimo, risale a Domenica. È stato Cristiano Pasca delle Iene, giunto sul posto dello sbarco, a ritrovare la felpa con accanto un cartone di latte. Il latte, insieme ad una bottiglia d'acqua ed alcuni indumenti, rappresentano il contenuto di un kit di sopravvivenza che viene consegnato ai migranti, che affrontano la traversata. Della felpa con scritte minacciose non si era mai avuta notizia. Adesso si ha certezza e tutto è stato filmato, fotografato e consegnato alla Procura della Repubblica di Agrigento, che ha avviato un'indagine. Difficile adesso stabilire il vero grado di pericolosità rappresentato dal ritrovamento della felpa. Certo è che i magistrati agrigentini hanno cominciato a muoversi con estrema cautela, nel tentativo di dare risposte certe agli inquietanti interrogativi che il ritrovamento di Torre Salsa ha immediatamente posto.